Italia Football Club La pizza tricolore va fatta, uno per rispetto della pizza italiana a tutte le effette, poi signori dal mio punto di vista la pizza top, base di disco di pasta, pomodoro, mozzarella di bufala, a fine cottura mettiamo dei buoni pomodorini, il basilico è un goccio di olio extravergine d'oliva, questa è il top per quanto mi riguarda, è la numero uno in assoluto perché è la semplicità che raggruppa tutti i nostri gusti, del nostro territorio, sapore della nostra Italia, tutto quello che vuoi senza nessun problema, è il giusto connubio tra i sapori nostri d'Italia con la pizza che si va a fare. Grazie.